Signore e signori, sono lieto di presentarvi i McColl. Aspettiamo un bambino. Oh, magnifico! Ispirare, espirare. Il vostro corpo sta attraversando una bellissima trasformazione. Ehi, hai visto quel tipo? Sta lì a fissare la casa. Ho trovato questi strani simboli. All'inizio del cristianesimo c'erano gruppi di dissenzienti che usavano questi simboli per evocare un anticristo. Ehi, ti senti male? No, sto bene. Tu resta qui, ok? Va bene. Io vado a prendere la macchina. Oh, oh, oh! Che fai? Sono stata io a farlo. Non so come sia successo. Sei nata dalla morte. Ti stanno aspettando. Aspettalo da tempo. Che vuoi? Lasciati in pace! Lo vedete? Signora, tutto a posto? Che sto facendo? Chiapa! No, no, Sam. Dobbiamo andare via. Che c'è? È il bambino. Va tutto bene. Va tutto bene. Non ci toccare! Non ci toccare! Non ci toccare! Ti st tonight. Non ci toccare! Grazie a tutti.